we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuderone e ragazzi l'unica sfida di questa settimana numero 2 della season 9 che richiede un attimo di concentrazione è proprio quella che ci chiede di visitare un telefono gigante un pianoforte gigante e un pesce danzante gigante il pianoforte ragazzi eccolo qua lo sapete tutti dove siamo ragazzi dai il pianoforte che tutti conosciamo benissimo vicino a rifugio ritirato a bordo mappa ragazzi siamo ovviamente nell'unico posto dove è possibile trovare forse c'è ancora il pianoforte anche quello vicino a parco pacifico comunque quello è il pianoforte i telefoni ragazzi dai non ve lo sto neanche a dire sapete benissimo ce ne sono due li abbiamo già visti nella scorsa season il primo ragazzi è qua dove vi sto pingando come vedete nella montagnetta dopo landa letali quello bianco ma se voleste c'è anche quello rosso che si trova se non ricordo male qua dovrebbe essere la sua posizione corretta in questa zona telefoni li sappiamo pianoforte lo abbiamo visto l'unica cosa un po più particolare ragazzi è il pesce danzante gigante perché vi consiglio ragazzi di controllare bene perché non è il pesce quello che si trova gigante di legno dove ci sono le sorgenti in poche parole quello che si trova qua presente da questa season no è un pesce ragazzi che invece si trova esattamente in una casetta vicino a mega mal quindi al nuovo corso commercio voglio farvelo vedere ragazzi perché in realtà è l'unico elemento che può richiedere un attimo di concentrazione per essere preso vediamo se ci arriviamo intanto prepotentemente con i condotti d'aria la casetta ragazzi è quella vediamo un attimino e dovrebbe essere eccolo qua incastrato ragazzi adesso mi ammazzeranno purtroppo perché c'è gente ma il pesce gigante è questo ragazzi se noi ci mettiamo qua e proviamo a fare un balletto vedete che balla pure lui ragazzi quindi il pesce gigante è questo beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao